Credo profondamente nel mestiere, il mestiere di saper tagliare, cuscire, di studiare moltissimo sia la storia che la storia del costume, più c'è conoscenza e più si può dare. Questo vale anche per un giovane che vuole incominciare questo mestiere. Può essere bello saper tingere le stoffe, può essere bellissimo tagliare, cuscire, disegnare e fare dei costumi per uno spettacolo, un film, perché in fondo il nostro lavoro è aiutare l'attore a entrare nel personaggio. Fare un bel vestito, un bel costume può essere facile. È molto più difficile fare un costume per un personaggio come scritto nella sceneggiatura. Infatti in questo corso a Prato lavoriamo molto anche sulla sceneggiatura per far capire agli allievi che cosa si chiede da noi. Non si chiede solo dei bei vestiti, ma si chiede spesso a una donna giovane di diventare vecchia, la vecchia di diventare più giovane, grassa, più magra. Fare questo corso mi appassiona, perché mi appassiona l'idea di passare la mia conoscenza. Invito i giovani con stoffa o pensano di averla o l'avranno di venire al corso la stoffa dei sogni.